Cari amici, buonasera, benvenuti alle opere scelte da Lucia. Oggi è la giornata mondiale del libro e quindi la nostra opera non poteva non tenere conto di questo giorno così speciale legato al libro che per noi è davvero così speciale. È un momento di incontro con un oggetto straordinario che è passato attraverso menti che lo hanno pensato, realizzato, disegnato, disegnato, decorato nel passato e carte diverse, maestri di penna, di pennello, incisioni, miniaturi, una storia meravigliosa la storia del libro. E oggi noi abbiamo la fortuna di poterli acquistare e poterli leggere. E ci piace pensare che l'idea di dare oggi e di parlare oggi di un soggetto femminile con un libro si accompagni a questa parola libertà che oggi nelle nostre menti è così tanto ambita dato che viviamo in questi spazi chiusi e la libertà è qualcosa che possiamo conquistare con il sogno e col pensiero. E il libro è lo strumento che ci aiuta. Il libro che nelle mani femminili è stato spesso rappresentato nelle mani delle sante, nelle mani della Vergine Maria come sede sapienza. Ma per esempio vi presento questo straordinario artista fiammingo, il maestro di Coxtrata, un'opera del XV secolo conservata alla Galleria degli Uffizi dove si vede la Vergine, il bambino, Santa Caterina e la Santa Barbara con questo libro bellissimo di cui vi mostro in dettaglio in cui pagine decorate, mignate, il taglio del libro, la costola, la coperta, ci fanno capire quanto attenzione la committenza faceva alla realizzazione del libro. Mentre pensavo all'opera da scegliere mi ricordavo di aver visto una immagine molto bella durante la visita a Mantova alla mostra realizzata da Sgarbi, natura e maniera alle ceneri di Giorgione tra Tiziano e Caravaggio. Mi ricordavo di un quadro che così passando mi ricordava molto Tiziano ed in effetti lo ricorda davvero ed è Christopher Schwartz, è una Madonna penitente, ma quello che mi aveva colpito era proprio l'immagine dell'immersione nella lettura, l'idea di non avere un mondo fuori e questa bellissima donna, i capelli rosso Tiziano, sensuale, morbidissima, in cui i colori non si contrastano ma si sfumano uno nell'altro, che tocca e accarezza con la mano il libro, che ha questo duplice aspetto di così piacevolezza, l'aspetto tattile e l'aspetto appunto privato ed evocativo. Ma quale sia davvero il quadro per eccellenza che ci aiuta a capire qual è il momento proprio in cui ci rintaniamo e non vogliamo uscire, ma stiamo soltanto noi e il libro per tutto il resto del tempo senza mai uscirne. Ecco, questo è il quadro che subito a tutti noi viene a mente. Sto parlando di questa bellissima fanciulla dipinta da questo artista ginevrino, si chiama Etienne Lyotard, vestita alla turca su un divano verde, guardate la qualità del dipinto, l'attenzione al cappellino, alle perle, totalmente immersa nella lettura. Il quadro che è stato ritrovato negli anni 30 ha una iscrizione sul dietro e ricorda appunto di essere il ritratto di Madame Marie Adelaide di Francia realizzato nel 1713 appunto da questo artista di Ginevra. Tra l'altro si ricorda anche che il tema della lettura era un tema molto utilizzato dagli artisti dell'Ottocento, da Fragonard, da Boucher, da maestri legati al Rococo. E qui ecco questa bellissima immagine intensa, molto privata, rilassata, concentrata in cui dice Starovski del 64, il personaggio è talmente animato da un movimento interiore che sembra di percepirne la respirazione tranquilla, lo sguardo fisso nelle righe del libro e più lontano sull'orizzonte fittizio scaturito dal libro. Ecco questa idea del percepirne il respiro, questa idea che ci sia un rapporto tra il libro e chi lo legge e queste immagini di queste donne che viva la libertà di leggere, di conoscere, di sapere e di trovare un punto dove potersi sedere in un angolo e lasciare la mente seguire le parole di cui se ne capisce il significato, immersi in una straordinaria lettura. Quindi questo è il nostro modo oggi di celebrare e commemorare insieme la giornata mondiale del libro attraverso la grande arte dei pittori del Quattrocento, ma soprattutto per questo quadrettino delizioso della Galleria degli Uffizi che vi mostro ancora Etienne Lyotard, la ragazza vestita alla turca che legge il libro sul divano verde. Con questa opera vi saluto e vi ringrazio, a domani!